Siamo qui oggi a inaugurare il viale di 15 tigli che è stato piantumato da ALER su sollecitazione del comune e che quindi completa l'intervento di riqualificazione di tutto il complesso delle case popolari ALER di via Carnovali, ridando anche nuova dignità e piacevolezza al viale di via Carnovali che a tutti gli effetti col tempo diventerà un vero e proprio viale alberato della nostra città. Salve, l'ALER dopo aver ultimato questi alloggi si è preso l'impegno di metterli in sicurezza con l'installazione di telecamere. Inoltre, pensando al verde sul lato strada, sono stati emessi a dimora una quindicina di alberi.